La nostra puntata di 105 Night Express di questo venerdì sera Io come sempre ci tengo a ringraziarvi per la partecipazione È bello chiacchierare con voi, è bello confrontarsi, è bello raccontarsi Grazie anche al nostro Little Tony in regia Che ci ha delissato molto bene per le nere Per le nere, per le nere Per le nere, per le sono particolari rispetto alle altre È venerdì, Tony, quindi io vi auguro a tutti un nuovo weekend Ma che c'è? E poi la macchina? Ci troche per la scuola Ma che c'è? E poi 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 c'è?